una persona in questo caso una donna che mattina presto appena apre l'attività commerciale quindi appena può avere accesso alla macchinetta che una donna che potrebbe avere l'età della mia mamma per cui una mamma probabilmente una nonna che invece di portare il bambino a scuola di accompagnarlo di rendersi disponibile o di vivere il momento della colazione con la sua famiglia che la mattina prestissimo è davanti alla slot machine in ciabatti questa cosa qui deve impressionare già il fatto di mettere degli orari frena una persona ci ha segnalato che senza essere uscita dal problema ma che non era più il suo pensiero principe della mattina è il motivo di svegliarsi perché abbiamo messo che l'orario iniziava nella carta mattinata la possibilità di accedere a queste slot grazie a tutti Grazie a tutti